Oggi proverò a sopravvivere per 100 giorni in League of Fortnite e per rendere la challenge ancora più impossibile se muoio devo cancellare il mondo e ricominciare da capo Riusciremo a completare il gioco? Sono passati 10 giorni e in questo tempo abbiamo farmato risorse costruito il nostro villaggio, potenziato il nostro personaggio e sconfitto mostri paurosi e oggi daremo il via ad una nuova sfida È l'inizio di un nuovo giorno nella nostra avventura Abbiamo creato armi verdi, migliorato il nostro villaggio Direi che il prossimo passo da fare sarà migliorare il banco da creazione Per fare ciò dobbiamo andare nel deserto Ma non sono da solo in questa avventura Dunque girasole vieni qua Esploriamo insieme e andiamo a sfondare i mostri del deserto Ok ecco qui la nostra prima preda Anche se qui vedo un qualcuno di decisamente più forte e decisamente più interessante Io ho 185 colpi nella palestra Direi che siamo pronti per eliminare il nostro primo bruto Vai sfondalo Oddio sfondato ci ha fatto 0 di danno Ed eccola qua Squama di bruto delle sabbie Questa sarà veramente veramente utile Adesso possiamo passare all'eliminazione del cane delle sabbie che avevo visto qui in giro Ok a quanto pare me lo sono perso anche lui però abbiamo trovato il rotolone delle sabbie Eccoli qua perfetto venite Boom boom bam bam boom Quanto è bello usare lo scudo ragazzi per fare doppio di danno Mamma mia Ok Prendiamo un po' di materiali facendo esplodere qua No mi sa che faccio esplodere Che cosa ho fatto? Ehi girasole Bentornata Ok L'immortale Ok direi che a Gucci stiamo messi bene adesso però dobbiamo trovare di nuovo quel cane Eccolo qua il cane Ottimo perfetto Vai girasole Boom Sei fatto decisamente tardi Direi di tornare al villaggio Come non detto Eccolo un altro E un altro ancora Ok per forza Per forza l'abbiamo Per forza ne abbiamo 12 Ne abbiamo 12 Non è possibile Un altro Boom Ok abbiamo un altro ma solo 4 fecce Quindi direi decisamente di scappare Ed eccoci qui Finalmente a casa Dove adesso possiamo finalmente Upgradare il nostro banco da creazione E fare quello blu Spum E se ammazziamo un altro brutto Lo possiamo anche fare a epica A livello massimo Oh Sì L'ambra Era quello che cercavo Sto morendo di caldo Devo sbrigarmi Ed ecco l'ambra che ho preso Godo Per favore farfalla Portami da un posto Che avrà un sacco di legno Uh Ok Dimmi che è piena di legno Che schifo Però direi che il legno Che abbiamo farmato Ci basta Per poter farmare Altra ambra Ok qui abbiamo Altra ambra Che abbiamo farmato Perfetto Arriviamo quindi A 22 Direi che ci basta A quanto pare Per fare l'ambra purificata Per fare l'ascia blu Abbiamo bisogno Di altro marmo Quindi dobbiamo andare Un secondino in grotta Di nuovo Ok piccone consumato E 77 Di marmo Ottenuto Che adesso possiamo Trasformare In un paio Di lastre Che ci serviranno Per fare finalmente Questo benedetto Taglia gemme Oh Vieni qua Oh Finalmente Lascia blu E adesso direi che possiamo Volare in maniera Rapida Rapida Verso il deserto A prendere Un pochino Di legno Plesso Eccolo qua Boom Possiamo fare le fondamenta Dinamiche adesso Vediamo se funziona Anche sui cactus No ok Non li abbatte i cactus Ok lo sapevo Ok nuovo giorno Direi che posso avviare Il mio esperimento Funzionerà Usare sta cosa qua Ah si Spacca ancora tutto Ok Non i cespugli però Ed eccolo qua Piccone blu Amuleto della salute blu Facciamoci anche uno Spremitore qua Così che possiamo Finalmente farci Un po' di succhetti Per i succhetti Servi l'arte Che potete andare a cercare Avevo visto migliaia di mucche Qua intorno Non ce ne sta più nessuna Però possiamo finalmente Migliorare il villaggio Eccolo qua Livello 6 Però rapace Teneva la verga Di un otto torto Quindi possiamo farlo Detendere lo 7 Boom Posso fare anche la palestra Di curva blu E adesso dobbiamo trovare Il rame E l'ossidiana Ma anche eliminare Il brutto Direi che possiamo andare Adesso Facciamoci un paio di frecce Prendiamo queste frecce E andiamo a sfondare Il brutto Ok visto che ci ho messo 60 ore a cercare il brutto Non l'ho trovato Direi che dobbiamo andare Un po' più veloci Dunque Se vado a prendere E la metto a fare qua Potremo andare a fare Il deltaplano Ci servono 4 tessuti di lana 4 di seta E 8 verghe di legno flesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nel mentre che Farmiamo roba Per il deltaplano Appiamo un attimino Il nostro villaggio Perché non possiamo modificare Il villaggio Se non facciamo esperienza Non ho preso A costruire case Per nessuno Perché tanto E villager Interessa il livello del villaggio Non la grandezza Per entrare Oddio Che figo Costruire sto tetto Boom Fatto Adesso ho fatto Oh Livello 8 Let's go Ok Adesso serve l'ossidiana Che si trova nelle caverne di lava Anche per appare Questo coso qua E poi il rame Ok Ho due scelte adesso Andare a cercare di nuovo Il brutto O andare a cercare Una caverna nel deserto Io direi di andare nel deserto Perché ho Una marea di frappe Che mi terranno Praticamente Immune al calore Per tutta la vita Oddio Dimmi che è quello che penso Sì È una crozza del deserto Ok Qui dobbiamo stare Veramente Veramente attenti Ok Ossidiana Ce l'abbiamo Adesso iniziamo a farmare rame Questo è cortolucente Non è rame Ah perché poi Da questo si prende il rame Giusto? Ah no Ecco il rame Ok Ecco il rame Ok Abbiamo rame E abbiamo anche ossidiana Più o meno Questo è rame Cos'è questa cosa? Rubino grezzo Non mi interessa Io continuo a non trovare Ossidiana L'unica cosa che mi serve Oddio Ok Squamati brutto Ci sta Ci sta un botto Ok Non so perché non l'avevo vista Non esiste ossidiana In questa stupida grotta Praticamente Andiamo a cercare un'altra Fammi uscire Ok Eccola qua Sono andato in un'altra grotta E qui all'entrata Proprio c'era l'ossidiana Perfetto Devo farmare ossidiana adesso Ok 60 di rame 24 di ossidiana E me ne torno a casa Me ne servono 25 25 No Quante ne ho io? No ci voglio Credo Devo tornare fino là Per due gli ossidiana No ancora di più Perché poi devo fare Il crogiolo per metalli Per fare il rame Mi serve un nuovo piccone Finalmente posso fare Il deltaplano Ottimo Ah non ci credo Adesso è sponato il brutto Verde Ma non Non ce ne può fregare di meno Ragazzi Non ci serve più La sua scaglia Ok Ho creato una piccola scala Come piattaforma Di lancio del deltaplano Già lo dico Se muoio così Non vale come morte Woohoo Ok L'ho aperto di questa Meramente Perché non volevo Crepare Ok perfetto Il deltaplano funziona Questa scala ci aiuterà Moltissimo A raggiungere il deserto Dove dobbiamo tornare Per prendere l'ossidiana Però aspetta La mia energia Sta scendendo velocemente Cosa succede Quando l'energia finisce? Wow Ok Non va bene per niente Questa cosa Come detto Se cado e muoio da qua Non vale come morte Non la conto Però ho un'idea Se tipo cado in acqua Quando è che finisco la stamina Ok basta che faccio così Perfetto Voglio fare comunque l'esperimento Se cado in acqua Se cado in acqua Ok non perdo stamina Ok dimmi che questa grotta C'è l'ossidiana Per favore Ok si è la stessa grotta di prima Perfetto Prendiamoci un po' di rubino Perché può servire Ma No questa è Ok questa serve un botto questa qua Molto più del rubino Ok direi che con tutta questa ossidiana Tutto questo rame Tutto questa corlucente Questo po' di rubino Di possiamo tornacene a casa Eccoci finalmente a casa Ok Nuovo giorno La torcia ha baggata in mano E c'è pace secca con la mano Molto 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 Sass Se vado a raccogliere questa Dovrei finalmente Essere capace Se Di costruire il crogiolo Se Fammi andare a prendere il rame maledetto E quanti me ne servono Allora cosa devo fare Devo baffare questa Me ne servono 15 E lastre di ossidiana 16 lastre di ossidiana Ok facciamo così E qui invece devo farne 15 Direi che per ammazzare un pochino il tempo Ci costruiamo un altro padiglione qua Boom Completato Siamo a livello 9 Per la valutazione del villaggio Andiamo a migliorarlo Perfetto Boom Livello 9 Livello 10 Cosa ci serve? Legno flesso L'astra di ossidiana Ambro in tagliato Ok tutto fattibilissimo Dobbiamo semplicemente portarlo 10 Finalmente L'astra di ossidiana Verga di freddo pino Ok Dobbiamo andare a fare il freddo pino Finalmente Ho finito l'accordo lucente No Non mi direi che devo tornare un'altra volta In questa stupida grotta Io mi bevo questo qua adesso E si entra Dai per favore Dai per favore Dai per favore Dammi Tutti i minerali possibili Già mi piace Vedo pochi scheletri Oh è il girasole che mi aiuta Madonna Che miniera Mamma mia quanto corto lucente Vabbè credo di averla pulita completamente questa grotta Quindi prima che finisco le cure Me ne vado Ok Finalmente a casa Dobbiamo fare l'ascia Ci servono 3 lingotti 3 verghe di nodo torto Ok Poi qui per migliorare il villaggio Ci servono 15 di segno flesso 30 di ossidiano E 20 di ambra intagliato Ok Facciamo 15 qua L'ambra intagliata Già ce l'ho Dobbiamo fare 15 di legno flesso Se non mi sbaglio E fare l'ascia Epica Ok eccoci qua Cosa possiamo costruire adesso Con tutti questi materiali Ti facciamo il rifugio ritirato Dai 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 Che mi piace Iniziamo a costruire E' spam Rifugio ritirato Completato Adesso Possiamo Finalmente In qua Migliorare il villaggio A livello 10 Ok Ho fatto anche il rampino Direi che siamo pronti Per andare a esplorare Quella maledetta Caverna Ghiacciata Ma direi che è il momento Di esplorare Mangiamoci il palino E mamma mia Il freddo Quanto squa- Il cane delle grotte E cosa abbiamo qua Perro Eccolo qua Vieni pure tu qua Facciamo finta Che non sia successo Mai niente Ok Questo dovrebbe essere Lo zaffiro Giusto Dove essere questo Eccolo qua Perfetto Parliamoci un pochino Anche di questo E poi ce ne troviamo Subito a casa Perché i cani Come sappiamo Fanno tanto tanto male Perfetto Direi che possiamo Trovare a casa Con un bottino di oro Strabiliante Anche un bel po' di zaffiro Solo 30 di zaffiro What E rieccoci qui a casina Palestra di curva epica Ok Adesso mettiamogli Un po' di essenza Di durevolezza Ok Facciamoci anche Una bella spadina Ok Abbiamo le armi epiche Abbiamo il villaggio A livello massimo E dunque ora Non ci resta Che solo una cosa Da fare Per completare Il gioco Eliminare il brutto Dei ghiacci Ho 112 frecce Sono pronto Inizia la battaglia Costruiamoci un fortino Magari se è più una scala Però No Ma l'ha già distrutta Oddio ma io Ho costruito questa scala Quando c'ho qua Un Altrimenti una postazione D'arciera naturale Scemo 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 Mamma mia Che goduria Ok facciamo un pallone Perché sennò Inizia a morire di freddo E boom Hai eliminato Brutto delle nevi Dunque adesso Aspettiamo che finisca la notte E andiamo a completare Sto gioco È un nuovo giorno E quello che ci resta da fare È scalare Quella montagna La più alta del gioco Perché a quanto pare Lì sopra Si nasconde Il tesoro Più importante Di Lego Fortnite E ce n'è un botto Di questa malachite Non so adesso Se sia rarissima Importantissima Oppure sia comunissima Però io la prendo nel dubbio Eccoci qui Aiuto No Aiuto Oddio c'è cado Non succede niente Perché c'è un rampino Ma eccoci qui In cima Al monte più alto Di Lego Fortnite Cosa nasconderà Questa Davvero Io ho sprecato 20 miliardi di giorni Per diventare Il più forte Di questo mondo E tu mi dai una cassa Con quello schifo È ok Per l'ultima volta In questo video Torniamo A casa E direi che non ho capito Una mazza A cosa serve la malachite Magari servirà Nei prossimi aggiornamenti Per adesso direi Che in 32 giorni e mezzo Aver finito il Lego Fortnite La challenge dei 100 giorni L'abbiamo stracciata Iscriviti Ciao